questo modo di filmato l'ho filmato a colazione filmatino buonestine whatsapp whatsapp ho visto il filmato whatsapp di cosa eh devi fare in terrolandia ah no non mi piace per lo meno whatsapp quella era whatsapp whatsapp si ma che dice lei si rimuvi la pezza in inglese faceva quando l'altro chiamava e diceva bella 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 e ora tutto a un tratto no te lo dio nooo che bei visi hai al mattino boia sembriamo cirviatti come è caffè? doppiamente zuccherata bella senza visi sei dimattinato ora è una ronda molto dolce doppia zonnetta comunque è molto bella è molto tende muoio se non ti guarda muoierai muoierai mi muoierai non ci ci Grazie.